Alla fine l'ho portato alla fiebre della porcellana per vedere le nuove porcellane che sono uscite. No, non è vero, siamo qua. Non potevamo mai andare noi. Secondo me per la città te lo puoi prendere questo. Si, lo vedo pratico, poco rumoroso, comodo, poco affariscente direi. Spettacolare. E infatti anche il prezzo lo vedi che non è... No, comunque è mille. Che bella come l'ha fatta. Molto bella, l'unica cosa che non mi piace è il colore. Guarda com'è, con un'unica moto al mondo poteva piegare. Era questa. Vai piegati. Solo con questa potete piegare. Situazioni un po' più definute, cosa invece ti ha portato bene? Solo 60.000 euro, solo. Ragazzi, sono riuscito finalmente a portare al dock in mezzo alla natura. Delle ICMA però. Delle ICMA però.